Vivere in un'era digitale non significa avere clienti digitalmente soddisfatti. Gli utenti di internet sono sempre più esigenti e meno ben disposti nei confronti di siti web poco performanti. Il 70% dei consumatori non si ritiene soddisfatto dalle interazioni con aziende che hanno introdotto strumenti di digital customer experience. E IBM ha scoperto i quattro motivi. I servizi digitali non funzionano come dovrebbero. Non offrono vantaggi più convenienti rispetto ai sistemi tradizionali. Sono difficili da usare. Sono confusionari. Cosa si aspettano quindi i tuoi utenti? Concentrati su rendere l'esperienza utente il più semplice possibile. Cerca di comprendere cosa vogliono i tuoi utenti per poter plasmare l'esperienza sulle loro esigenze. È inutile creare una nuova tecnologia e dare per scontato che i clienti l'adorino e capiscono come usarla. Soprattutto non dimenticarti di chiedere feedback precisi e puntuali agli utenti che usano i tuoi servizi. Noi abbiamo una community di 15.000 tester che potrebbe fare al caso tuo. Se vuoi sapere quale test è più adatto alle tue necessità scrivici a info-app-quality.com Grazie per averci seguito e alla prossima PIL.